Buonasera a tutti, benvenuti tutti quanti, ciao, aspetto che vi colleghiate per fare la lezione di Total Body, solito discorso, siamo collegati appunto per una lezione alla portata di tutti, di media alta intensità, con i pesetti che ci troviamo in casa, serenamente, tranquillamente e il tappetino. Allora ragazzi, aspetto che vi colleghiate, allora innanzitutto grazie alla Rossella che l'altra volta mi disse che l'inquadramento non era perfetto perché non si vedevano le gambe, oggi ho centrato al massimo, come potete vedere, quindi grazie mille delle vostre indicazioni, vi ringrazio tantissimo. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Rispondetevi nei commenti, mi fa piacerissimo. Allora ragazzi, siamo pronti? In questo periodo saremmo stati ad allenarci in palestra come dei matti perché comunque la settimana prossima è Natale, naturalmente accolgo l'occasione per farvi tantissimi auguri sia a voi che a tutte le vostre famiglie. E naturalmente poi, appunto, spero di avere la possibilità nella prossima settimana di rinnovarveli, ma siccome venerdì prossimo è il 25, sicuramente salteremo la nostra lezione. Quindi adesso vediamo, organizzando l'orario, se facciamo lezione in qualche altra ora, ma sicuramente il 25 di dicembre sicuramente non faremo lezione, giustamente. Quindi auguri veramente di cuore a tutti, ve lo dirò anche dopo. Allora, adesso però pensiamo a tutto quello che ci aspetta, anche se è Natale casalingo, predisponiamoci per godercelo, panettone, tutto quello che ci va. E quindi ora è il momento di andarci giù duro con l'allenamento. Abbiamo già detto, tappetino e i pesetti, pesetti di fortuna qualunque voi abbiate, ok? Partiamo subito per essere puntuali, aspettiamo massimo le 6 e 1, così appunto iniziamo puntualmente la lezione e termineremo puntualmente. Ok? Buon allenamento a tutti, scrivetemi nei commenti, così appunto è un'occasione per migliorarsi, sempre, 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 sempre. Vai! Partiamo con la visita. Partiamo con la visita. Mi sembrava bene. Mi sembrava bene. Perfetto. Partiamo con il nostro riscaldamento, eh? I soliti quattro blocchi, da volo eropico, da volo toro, ok? E ci siamo. Settaci. Buono. Lo riscaldiamoci. Solo Grazie. Solo accanto. Scegliamo il buonasera a genna e cato. andiamo singolo, ok pronti ad andare avanti, ginocchio alto, ancora, di più, ragazzi pronti di tornare in leccan, si va per quattro, tre, due, sali, sali, buono, vanno dietro, ginocchio, leccano, segui, ok, vieni su, l'ultimo giro così, e vieni, sali, dietro, sali, buono, braccia, ancora, quattro, tre, due, ragazzi ruotiamo le spalle, buono, cambiamo il senso della rotazione, si va, quattro, tre, due, e di nuovo cambio, e cambio, braccia, all'inizio, qui, ruota bene il pulso, tre, due, si va, giù fuori, cambia il senso di rotazione, ultimo giro, vai, tre, due, ruota, ruota, cambia il senso di rotazione, spalle, vai all'inizio, leggetro, leccano, 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 raccia, come, ancora, ancora, ruota, e qui, ruota le spalle, cambio, perfezzo, forza, buono, se non puoi correre, cammina, no problem, scegli di l'intensità, ok, ragazzi si corre davanti, doppio squat, qui dietro, si va, corro avanti, doppio squat, qui dietro, si va, spingo, spingo, faccio un passo indietro, si va, se vuoi camminare, fai la stessa cosa, nessuna differenza, qui, squat, squat, indietro, ok, perfetto, buono, solo lunge, solo uno, doppio squat, torno indietro, solo lunge, si va, buono, si vuoi, incrociate le braccia, indietro, spingo, 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 vado indietro, lunge, indietro, ragazzi l'ultimo migliore, spingo, 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 giro, perfetto, spingo, 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 aggiornateci le rotelle un po' più nei tuoi fianchi, allora avresti le tre, bassi indietro, ok, controle i buongiori del amore, ancora, continuo, butti nel busto sollevato in bed 3, 2, ragazzi, in affotto, in affotto, ancora ancora, gli ultimi, gli ultimi, cerca con la mano, cerca, ci stiamo installando, e qui rimani, ok, con il domito sfiggi, giocchi fuori, appoggia la mano a terra, sali sul pallone, e qui ruota, solido straccio iniziale, per completare il nostro riscaldamento, ancora, gli stendi, piega, ok, ragazzi, ginocchio a terra, spingo il bacino avanti, gli stendo le braccia in alto, con le spalle lontane dalle orecchie, sempre, le mani scendono, in alto, ruotalo, colpaccio in allungamento, peso del corpo tutto avanti, il tallone è libero dal peso, ok, qui, sposta il peso del corpo dietro, vieni avanti, ricomincia ad avvicinare, costole, resta igliaca, inalcate la schiena, vai, a questi movimenti per riscaldare, preparati la tua schiena, all'allenamento, 4, 3, 2, ragazzi, qui subito, condito, contro il ginocchio, sollevo, la punta del piede in alto, ruoto, gli stendo, piego, gli stendo, continuo, ancora, ancora, 4, 3, 2, ragazzi, si rimane giù, spingo il peso del corpo avanti, gli stendo le braccia, 3, 2, 1, le due mani scendono, in alto, in alto la schiena, srotola, allunga il colpaccio, 1, sposta il peso dietro, e vieni qui di nuovo, ok, in alto e gli stendi, ancora 2, ok, solleva, e gli stendi, su, e giù, ragazzi, siamo caldi, vai, pronti a partire, il primo blocco già ce l'abbiamo, facilissimo, corromanti, doppio squat, singolo lounge, proviamolo, doppio squat, indietro, lounge, e lounge, ancora, spingi le ginocchia e cuori, in linea con il centro dietro dietro dietro, yes, spingo, spingo, ancora, cerchiamo il lavoro del cuore, vai, spingo, tenso del corpo indietro, bascino basso, doppio lounge, qui, così, doppio squat, qui, doppio lounge, ancora, doppio squat, kung,ingly, skiing, di nuovo, lorgi, crunch, lorgi, deutlich, lungo, volta, il cuore cresce, buono, Swedbo, buono, ultimo, scena, chi, zie di dietro, ragazzi, corrigo e basta, qui, con le mani tocca i tuoi talloni se vuoi ok 3 2 1 ginocchia ora e cambia ancora solo e marcio marcio 4 volte 2 ginocchia 3 2 si va perfetto tutto lì 3 2 e spitto un cancio 6 volte vuoi squat a foto squat ragazzi 6 subito 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 via si metti la mano di vivo spin boy si va hey ancora a fondo giù hey Ok, ultimi due, si, abbonda, yes, respira, recupera, buono, siamo pronti, tutto dall'inizio, tutto dall'inizio, corri avanti, doppio squat, scendo indietro, ancora una volta, parti subito, le braccia non corse, fissa un appetivo, e colpisci lo, qui, qui, recupera, ok, l'ultima volta, tutto, e via avanti, tocca l'ultimo blocco, eh, tre, due, si va, doppio squat, qui, ancora avanti, ragazzi, ancora due, buono, squat, abbonda, bacino e passo indietro, se vuoi bene, ragazzi, sempre muovendo le braccia, segnando le piccoli scelte con le mani, qui, già qui in terra, taloni a terra e, qui, ancora, ancora, taloni a terra, già picché, e abbracciuto, si va, uh, hey, go, ahah, 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 ahah apri e chiudi ci va e quello 1 2 3 4 ok rimani tutto pronto double squat yes ancora uno indietro ragazzi girotti calcio spicco colpisci con la punta nel tuo piede ok isolizza la battaglia che vuoi e colpisci ragazzi 3 2 1 4 3 muovi le braccia si va pronti dall'inizio buono uno ancora uno spingoli ginocchio al cuore qui qui ci siamo persi ginocchio calcio tutto da rifare bene si va si va uh spicci ancora ancora su dai ginocchio calcio pusso dritto spicci un cuore indagino avanti qui ok scuota yes ragazzi corda e qui jumping corda si va il calore sempre a terra eh 4 3 l'ultimo giro l'ultimo giro buono ancora uno 2 ginocchio calcio 6 ci va qui squat squat al fondo laterale yes ragazzi cordicina jump jump si va ski uh tutto lì 3 2 il tuo tappetino si fa tutto insieme eh cominciamo come sempre gluteo parte posteriore del busto oggi facciamo gli squat usando le 3 posizioni delle gambe parti con i talloni appena più ampi dei ben pianti allora veloce subito singolo porta il bacino in basso indietro gomiti avanti perfetto spingendo il bacino scende qui sempre veloce buono aha scendi e sali ragazzi siamo pronti ad aggiungere l'età verso il basso e qui i sollevi mantieni i gomiti avanti spingendo a metà mi sollevo yes ancora 4 uh ancora 3 sali ancora 2 buono l'ultimo l'ultimo cambia la posizione allontano i talloni per impatto solo singolo spingi le ginocchia decisamente fuori sempre lì sempre lì con il centro l'ultimo ok yes sembra laddove scendi e sali buono buono ancora ancora mi raccomando a tutto l'ultimo ragazzi mettiamo sul basso 1 metà 1 risalgo uh si va si va guarda metà 1 2 scendi l'addome e mantieni le spalle lontano la cadela dentro fuori l'aria ragazzi quel di più l'ultimo di più very very good ok qui subito sistemi dall'oro sotto i gnocchi evitai rematore extension precipite vai vai ancora ancora 1 distetto uh si va si va hey hey lontano serra lontano bocca le spalle i passi dietro schieno super piatta buono ancora fuori 1 2 3 ragazzi rimanete giù e per tre volte per tre volte estendo camabbraccio su braccio e poi risalgo i codici restano immobili alti il più possibile verso il soffitto blocca il codico super alto distendiamo braccio su braccio e risalgo e risalgo sete lontano ragazzi quattro di più vai tre di più ottimo ottimo hey hey distendo distendo ultimo giro si tanta roba è quello il lavoro che dobbiamo fare allora andiamo avanti il primo tipo di affondo che faremo oggi quindi un affondo laterale e qui porti il peso al vento fai salire sgondi con il soffitto porti il peso al vento scegli e vicino al piede piegando il ginocchio piega il tuo ginocchio piega avanti con il busto senza inclinarlo sul lato busto avanti piega piega il ginocchio giù quattro di più uno si va tre su andiamo due uno l'ultimo infatti l'ultimo lavoro che facciamo il torino con posteriore fai piatta nel dorso sono ritirato al vento vai vai perfetto si si traiettori del movimento dal basso verso l'alto dall'oddia con le tue anche con le tue anche continua su mi raccomando spalle le orecchie buono uno meno meno quattro meno tre meno due allora grandissima mettiamo subito a terra ok ci aspetta un lavoro complementare Ok, allora in posizione di round, controlla le tue spalle, la colore più forte, le mani sotto le spalle, i gobi ti rivolti indietro, primo esercizio che facciamo, shoulder touch, tocco velocemente, senza muovere il busto, rimani con le armi e squadrate avanti, ok? Perfetto, è quello, ragazzi, ancora quattro, tre, due, rimangoli, apro e chiudo, movimento molto piccolo nelle gambe, piccolissimo, vogliamo vedere il busto super stabile, aprire e chiudere bene, basta, yes, ragazzi, siamo, mettiamo tutti insieme, shoulder touch, quattro, tre, due, salti, si va, quattro, tre, buono, due di più, apri, chiudi, ultimo, perfetto, stabili sul busto, buono, buono, e qui ci siamo, lascia tutto, secondo giro, rifaremo tutto, rifaremo tutto, alla granate, ci siamo, recupero, respira, yes, se hai necessità di bere, e di ora, vai, ottimo, squat, quattro ruoti, squadricissimi, leggo avanti, doppio squat, ancora avanti, ragazzi, non più calcio, punto, punto, e qui si porta, buono, bene, ragazzi, già qui, muovi sempre le braccia, si va, yes, pronto a ripartire, leggo, si va, doppio squat, doppio lounge, go, perfetto, fino a pulso, fino a pulso, si va, squat, lounge, squat, lounge, qui, corta, apro e chiudo, e qui, spingo, spingo, ancora due, e qui, qui, spingo, 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 che mai, che padre, stai, spingo, ho un pulsante, che cosa faccio, buono ginocchio calcio spicco ancora sporta, tocca assetto da guerra guarda le braccia ci appinge qui qui qua tutti gli attrezzi come prima vai cominciamo super sport gli stanzi 1 abbiamo iniziato subito con quelli velocissimi e quindi porta il tuo bacino in basso indietro scendi sali se vuoi un ritmo più tranquillo fai meno le definizioni basta bene ok ragazzi ancora 8 scendi di quanto sali punta fuori in aria buono ragazzi ci siamo metà verso il basso si va 1 metà 1 intero controlla il tuo busto i tuoi gomiti avanti le tue spalle lontate dalle orecchie vai ancora ancora a metà e adesso intero a metà e adesso intero a metà buonissimissimo ragazzi soltanto spostiamo il talone più in fuori e ripartiamo spingendo le ginocchia decisamente in fuori nel punto di riferimento sempre il cerco del nostro piede yes 8 di più ci siamo laddove e continua ottimo lavoro ragazzi meno 4 meno 3 ci ricordiamo metà verso il basso 1 metà 1 intero vai vai e questo spingi le punte dei piedi verso l'esterno leggermente estravuotare fuori dai ragazzi incredibile siamo già arrivati alla fine dei nostri squat qui taloni sotto i bianchi subito e stendo mantenendo il gomito più in alto che si può giù ancora ancora perfetto di più tutte le volte che sali strizza fuori l'aria e controlla il gluteo quattro volte di più ragazzi siamo pronti? aumentiamo il tenico nei muscoli delle braccia ai principi i tre piavi ora 3 2 volte una volta e risalzi voglio tre di tension 3 mantieni il gomito sempre alto 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 si va giù spito ancora ancora si si musica tanghera ci piace espira vai si si buono ci siamo il gomito lo voglio lo voglio due volte di più go pam pam lo sguardo lo rivolge a terra eh ok due metri davanti a terra ragazzi qui sempre un lavoro per il gluteo giù vai vai gluteo dorso del dolore posteriore giù mi raccomando il gusto scendi avanti il peso si avvicina al piede e poi sali contrai spicci il gomito al soffitto scendi una gamba completamente distesa l'altro ginocchio piegato scendi su ancora ancora scendo scendi su qua su ragazzi l'ultima ripetizione rimani qua taloni sotto e bianchi eh gomiti al soffitto più in alto nelle nostre spalle spalle giù ma gomiti ti salgono su uno su su vai ha rimpio ha ancora serra come ragazzi meno quattro meno tre meno due ok tutti giù posizioni posizioni del plank mani sotto le spalle colonna lunga lunga e forte come ti sono rivolti verso dietro su serra il tuo addome il bacino è sempre in basso eh vai su e rimani stabile si muovono solo le braccia go go vai go ancora shoulder touch stabilizza col busto controlla il punto del tuo addome vai su e stop controlla e qui apri chiudi apri chiudi ancora yes si su ragazzi ci siamo combiniamo i due lavori ha su giù ti raccomando controllare le spalle siamo pronti? quattro volte shoulder touch quattro tre due uno apro e chiudo ancora vai apri chiudi di più vai ha wooo ultimi due el ultimi due l ai ultimo timo ultimo Respira, respiro, respiro, pronto a ripartire, si si, ancora, recupero, diamogli una fatina ora eh, ok, qua, terza fase aerobica, siamo oltre la metà, pronti tutti ora eh, in avanti, spingi sulla scuola, si va, eh, eh, ginocchio, calcio, con posti sulle braccia, buono, e qui, eh, eh, subito, con la corda, apro e chiudo, non mi sembra le braccia, eh, apro e chiudo, in avanti, go, perfetto, spingalo, 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 squat, uuuuuh, quattro, tre, ha, 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 ancora skipper, le braccia, piccoli cerchi perfetto spingi, spingi, lo squat, affondai, stabilitare il movimento qui apri il giro lungo il giro si, si in avanti spingi il pescino in basso giro il giro spingi il bacino squat qui affonda bam, bam guarda ci vuoi, jump in kiss oh no ragazzi è una grande palpettino lo prendiamo dopo i nostri pesi questi fatti in alto 3 2 1 3 2 ginocchio salto mi raccomando porta sul ginocchio eh 3 2 se vuoi 3 2 kick spingi 3 mantieni il busto fermo spingi la gamba immagina di colpire sempre sempre colana piede eh quattro di più appunto l'ultimo 3 2 si va 3 2 l'ultimo 1 tanta roba è quello allora ragazzi lavoro dal body poi lo scegliamo spalle e dopo gambe e poi ricordiamo apertura laterale apertura yes guadito in linea con le tue spalle piega le braccia senti la musica che cresce provate a darvi movimento in più che voglio apertura neck rise un'apertura neck rise dall'altra parte alterna stiamo negli accedi eh degli accedi andiamo a tirare una freccia vai ad andare un commento avanti e uno indietro avanti braccio si sceglie si sceglie hai particola posizione del busto le spalle sono lontane dalle orecchie buono su ancora ragazzi apro chiudo e stop qui ultimo lavoro comincio con i tannoni sotto in bianchi spingi in alto e ritorni giù ok ragazzi veloce otto seti sceglie segura lontone quono meno quattro meno tre meno due e no panini scop press dai dai sceglie sf dec verses top paes sceglie i piedi vочему durante lontan broken piedi, squat, press, ancora, meno quattro, meno tre, meno due, tanta roba, yes, qui e di terra, cominciamo, il plank per il verso, il busto in alto di voi, spingi e torna, con i padroni, ma tieni il bacino alto eh, ragazzi, qualche di più, spingi, sali col bacino a subito, spingi dai flutte rocchi, salvo, a ferro papà, e qui tieni sul bianco, braccio in avanti, lungo lungo lungo, ok, abbiamo cominciato già a farli lo scorso, vedete, qui, la mano è sul bianco, senti il lavoro, sul tuo bianco, ok, allucco il braccio, sopra la testa, ancora, questo vomito se vuoi, ti dà la spitta, se vuoi, mantieni la gamba a terra, ok, ok, ragazzi, ne voglio due veloci, uno, due, di qui, tre pulsazioni, ancora, due volte singolo, avvicini il tuo vomito, alle ginocchio, alle ginocchia, ancora, singolo, vai vai, spingi per tre, ultima volta, un, sei, tre, due, tartaroa, passate la posizione, poi ritorna sul bianco, le due mani hanno le dita verso il gluteo, spingi il vomito verso il dietro, e qui, spingi, fai, calcio, al lato, al muro, ok, e quando fai il calcio, scelta di spingere il bacino in su, vai, insieme la stabilità, senti gli ultimi bustoli della parte posteriore del busto, che lavorano, tre, ma tieni, tre, due, uno, alla grande, scendi sul bianco, allunga il braccio, e qui, quando vuoi, letto a letto, avvicina il vomito, alle due ginocchia, ok, sal, e qui, scendi, buonissimo, su, e giù, e ancora, sal, fatta roba, è quello, ragazzi ci siamo, combinazione, più veloci, e adesso, tre pulsazioni, apri, si va, tre, fino a tutti voi, eh, sicuro, dai, dai, tre, due, ultimo giro, tre pulsi, tre, due, uno, alla grande, tutto lì, ultimo giro, ultimo giro, ci siamo, ultima pedagogica, ritroviamo entusiasmo, spira, spira, stiamo pronti a spuotere, intietro, di lunge, ancora, doppio squat, ragazzi stiamo pronti, ginocchio, ginocchio, spira, spira, e qui squat, ha, 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 chio, battini, ha, 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 down, qui, jumpy turn, ski, ha, 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 woo, drop the top, in dietro, si va, shh, grandi, ha, ha, spira, 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 stai, spira, stai, s giving coda, let's walk, ha, ha, ta, ha, 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 forse olgi olgi go i'm gonna do that squat lunge i'm gonna pull that l'ultimo giro dietro ginocchio calcio l'ultimo giro l'ultimo giro l'ultimo giro l'ultimo giro occhi chiudi stagani a terra manca roba fatto i nostri mesi ci ritardiamo vero? cominciamo con le tre pulsazioni e un ginocchio che sale il ginocchio nella gamba dietro si avvicina a terra e se vuoi invece del ginocchio un gancio con la punta che colpisce sfiggi leggermente il tuo bacino avanti yes ancora seta l'addome e la cosa solo con le gambe yes wow wow hai quattro di più hey spingo e cambio due di più qui l'ultimo di più fatta roba quando ci sei a peccine laterali vai l'occhi l'occhi il volito e linee con le tue spalle non ti fermare spalle lontane dalle orecchie buono vai ragazzi ci siamo? no? stiamo avanti una apertura con le break balance in più trovo trovo ancora dai che ci siamo? stiamo 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 e sfiggi quando per la persona senti devo andare in contratti le tue spalle lontane dalle rete trova sfiggi oltre il pulite quattro di più tre di più uuuh ancora due e quello l'ultimo tanta roba ragazzi vediamo con i pesi andiamo due tracce per il tempo vogliamo essere interrompi dalla musica? che si interrompe ok le spalle in alto in basso e dietro spinta in alto vai vai spinta in alto spalle lontane dalle orecchie porta i pesi sopra la tua testa con le braccia distese qui gomito al gusto ragazzi pronti ad andare avanti? cominciamo allontane piedi e sei pronto ora squat press vai spinti di quanto che puoi ragazzi dobbiamo ad amiciare piedi solo spinta dai hai dai solo quattro di più solo tre solo due ora la parola atterra il nostro remestula il lavoro per l'addome parte posteriori del musco e l'addome bene mani con le dita in volta verso il gluteo mani sotto le spalle saliamo tutti passiamo il bacino e cominciamo bene bene calcio bene calcio in volta calci il bacino sale un po' più in su vai yes rimani con le mani sempre nella stessa posizione tre anzi ancora tre quattro tre meno due ultimo scendiamo sul piano allunghiamo il braccio avanti smuola la lontana delle bolecche braccio oltre la testa allunghiamo avvicina il comitore ginocchia una ragazzi sono anche piccoli veloci due avvicina lontana ci siamo piccoli veloci due tre pulsazioni ora verso l'alto quando il vomito è contro la ginocchia si pulse per tre ancora ancora spiggo ritorno pulso per tre ultimo uccino su dai 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 il lavoro lo senti tutto sul bianco ok ripeti fa una posizione delle gambe ruota davanti a amante mani sotto le tue spalle bacino più in alto che vuoi spiggo 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 vai e e ancora sali ragazzi da ora passiamo quattro tre su e spiggo su su sta scende allunga uno avvicino allontano usa anche la spitta del vomito a terra si calù su su ancora ancora pronti per la commutazione sono due voci e tre pulsazioni gooo tre due su 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 sono tre ultimo giro sono tre buono tanta roba rilassa la stiga abbiamo fatto tutto eh ginocchia sotto gli bianchi mettiamo le ante qui in arca e poi in esterno e continua io cambio la musica ma continua a rilassare la schiena ottimo ottimo veramente buonissimo lavoro ci siamo dati da fare oggi eh veramente stupendo mi sono divertita molto vi ringrazio eccoci quindi in posizione di quadripedia con le mani sotto le spalle in arco svolgo lo sguardo al pinza le ginocchia e ti stendolo ancora qui scendi guarda che che può sguardo rimanga la schiena allontano le scapole e ti stendi due volte di più perfetto ok ripetiamo della posizione di quadripedia per portare il ginocchio avanti stendete la gamba dietro aprite le braccia appoggiate il petto sul ginocchio bisogna mettere l'alluvamento lo sentite molto sedute ok adesso ragazzi lentamente ci sediamo le mani un pochie aperte l'alluvamento è sempre distesa e tutti per la braccia si avvicinano mani si toccano dai ai lunghi il busto l'inclinazione ok adesso riporta le mani lontane restate sul ginocchio cambia il ginocchio prima cosa mani ripetendo il tuo metto porta il petto sul ginocchio prima di là ok poi stendi sul fianco ok le mani si spostano e poi spostano spostano in modo che le mani si tocchino la gamba è sempre distesa i rossi con i sali fuori del piano spostano le mani spostano i flutti sui taloni spostano il peso del corpo sulle gambe spostano 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 Ok, fai scendere le braccia, afferra un polso e dimelo dall'altra parte, fai scendere la testa sulla stava opposta, cambia, abbasso il volume, ok, qui dietro scendo un po', buono, ok, scendere un po', e qui, quattro scipite nel mutamento, e cambia, un bel respiro nel super profondo, respiro, ragazzi grazie tanto, vi rindono i miei auguri, buon Natale, buon anno, comunque ci rivediamo presto, un grande abbraccio e grazie, grazie a tutti.